E' affatto strano che al momento le uniche considerazioni largamente condivisibili sulle inchieste aperte della Procura sul Comune di Avellino vengano dall'opposizione, dal massimo livello delle opposizioni, sia a parlare il deputato di Avellino, Gianfranco Rotonti, confederato con fratelli d'Italia ed eletto nella lista di Giorgia Meloni. Non tragga in inganno il disincanto intrinsecamente democristiano. Accade e accadrà sempre in ogni paese del mondo che un pubblico amministratore venga chiamato dalla magistratura a dare conto. Tutto sommato accadimenti abbastanza ordinari. Il punto è un altro. Da noi, da 30 anni, politica e giustizia si paralizzano a vicenda con tutte le conseguenze che questa lotta comporta. Se poi andassimo a spulciare gli archivi, ma questo Rotondi fa bene a non dirlo, troveremo indizi anche corposi di iniziative inquirenti, ma anche iter processuali, smentiti a volte clamorosamente dai fatti, rimasti a loro volta senza riparazioni di sorta. Capitomboli giudiziari che dovrebbero indurre alla prudenza e alla moderazione il giudizio politico. Fa bene Rotondi a ricordare che cavalcare le inchieste che riguardano l'avversario espone a rischi. Sono cavalli dispettosi, pronti innanzitutto a disarcionare chi li cavalca. Moderazione che Rotondi sollecita anche al sindaco Festa, cui dà atto della sua leadership in città conquistata sul campo. Quando si è indagati, alle conferenze stampa che si rivelano inutili è preferibile far parlare il proprio avvocato. La stessa magistratura trarrà vantaggio da una difesa ordinata e collaborante al fine di ricostruire in modo veritiero fatti e circostanze.